Radio Margherita presenta Confronti. Confronti, un successo per due storiche interpretazioni. Radio Margherita presenta Confronti. 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 Radio Margherita presenta Confronti. 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 Con Tutti i bimbi come due, hanno qualche cosa che sa, dice il mondo di padre e il mare, e non sanno che cos'è quella casa bianca che... Non vorrebbero lasciare nella loro gioventù che mai più ritornerai. Tutti i bimbi come due, hanno qualche cosa che sa, dice il mondo di padre e il mare, bianca casa che mai più io scorderai. Mi rimane dentro il cuore con la mia gioventù e mai più ritornerai. C'è una casa bianca che... Io mai più la scorderò, mi è rimasta dentro il cuore come la mia gioventù. Era tanto tempo fa, era un bimbo di dolore, io piacevo nel mio cuore. Non volevo entrare là... Tutti i bimbi come me, hanno qualche cosa che... E non sanno che cos'è quella casa bianca che... Non vorrebbero lasciare la loro gioventù che mai più ritornerai. Che mai più ritornerai. Ritornerai. Con il brano Casa Bianca si sono confrontati oggi Marisa Sannia e Don Baki. I prossimi brani che ascolterete su Radio Margherita Musica Italiana sono...